Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo Cianetta, che ho detto il G.P.S.A.R.O.8 e oggi stiamo vedendo un nuovo video su Brawl Stars yuppie 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 yuppie, come lo vedete chiamare? Con il mio caro Lorenzo che ha sbloccato finalmente, guardate, Matteo fagli vedere le coppe aspettate profilo guardate bene le coppe record di trofei 4.900 e fagli vedere cosa si sblocca fermate, fermate eccolo qui chi viene a 4.000 coppe e mio fratello, cioè Lorenzo l'ha sbloccato yuppie 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 su, prendilo Lorenzo clicca te, bravo ooooh ooooh tic tic la 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 guardate come e rieccoci qui eeeh faremo partite eeeh andiamo avanti a caso così to io metto Beryl e partiamo bene Beryl io metto lui e che la brock si ormai lo sa ma provalo tic provala tic provalo provalo ci mette anni ci mette anni scusa non so come funziona rag 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 andiamo ma perchè danno neanche una cassa io vado di qua ok ok per chi capper mi ha fatto così tanti danni magari è un livello più alto oh mio buon Gesù aiutami tu da che palema è una gioia sono morto e non prende neanche raga siamo fortunatissimi noi c'è meno 5 meno 1 forse è meglio che provo tecca forse è meglio che io metto bo perchè come vedete sono arrivato alle 3000 coppe io invece e ho preso il grande bo sei a 3000 io non so però chi è questo bo io sono a 4000 a tutti a 3000 e qualcosa non mi ricordo 3100 bo no non ancora comunque spara lontanissimo ahia che malissimo no ma ci mette anni no no non vale ah 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 quante ne perdo 0 ora però metti qualcuno ai corti perchè io sto mettendo stecca ora raga ci scateniamo distruggiamo tutto si 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 sono pronto no ti prego metti qualcuno da lontano da lontano va bene che non vada tantissimo lontano super lontano vabbè super lontano comunque spara più lontano stecca però è più forte colt è più forte colt ma sparo più lontano io andiamo andiamo raga non distrugge questa te la vai a prendere perchè io sono concentrato su questa andiamo 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 quanto vorrei ucciderti infatti già posso la vorrei già ucciso ahia che male quella natalizia si la natalizia è davvero forte no ma non ci picchia siamo morti così si e perdiamo le coppe meno due meno tre ma te non posso tornare a meno in questa perdiamo e basta basta ora basta 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 metto stecca no perché qualcuno è potentissimo dobbiamo arrivare i primi ma te è scarsissimo dai ok allora io metto lui uh ho capito vai ora distruggiamo tutto mamma mia distruggiamo tutto dai dai raga non posso solo perdere allora tipo la super mossa sei bestia io invece se mi nascondono i cescugli e campano per tutta la partita poi sono bestia perchè da vicino sfondo tutti vai vieni qui vieni qui vieni qui vai andiamo 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 vediamo che altre persone avranno già sette gemme ma cosa sai che una volta io inizio partita ho avuto sette gemme l'altra volta ci eravamo fermati a tre mila l'ammazzo di nuovo di nuovo quel bombardino posso chiamare anche super cast la volta non cambia niente no vieni qui col col come posso diventare un nuovo colluttorio vai che ora è senza pozione andiamo andiamo un colpo c'è un colpo uno dall'altra ma questo vfk matte stanno qua eccoli dove ah trovati li trovati te o li ho trovati io trovati io oh no oh no oh no ormai sono il più forte vai colta si sarà preso il zucco come pensavo no lui c'era 13 eh ma se stiamo vicini cose brusche accadranno siamo vicini amore non morire ho 16 gemme di più no io voglio far respawnare perché tanto lo sappiamo che vinciamo atto ho 16 gemme per favore matte ok hai fatto tutto te vabbè con il zucco con 18 gemme abbiamo vinto tutto gettono e stella gettono e stella gettono e stella gettono e stella basta 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 ho recuperato ragazzi voi non lo vedete ma io non apro la cassa per tre gettoni vabbè che brutta ricca andiamo 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 veloci scattanti incredibili oggi faremo 50 partite in un video dai speriamo quel video non dura un'ora per chi ha visto però il mio vecchio video del sushi bello per chi commenti con sushi ci sarà un segno o se no se non c'è scrivetelo sushi via prendici il zucco non te lo prendere sai che sei un idiota a me io penso due coppie in più io quattro ecco ora sono di nuovo allo stesso punto di prima quando avevamo perso la prima coppa e vabbè andiamo così diamo io ero contro una squadra e anche te se non stiamo insieme perdiamo immediatamente ancora che che viva il cane del cucino di qua ma te di qua porcaccia misericordia aiutami dai ma te io li per te vuoi quanto non prende perché non ti prende e allaga un po' quanto campeniamo o no ci abbiamo provato eh meno meno tre vabbè spero che questo video vi sia piaciuto e mannaggia la miseria che abbiamo perso e alla prossima ciao o ne